La Puglia La Puglia 2.000 etichette, 50.000 bottiglie consumate, 500.000 calici degustati. Grande affluenza all'Enoteca dei Vini di Puglia, lo spazio dedicato all'eccellenza della produzione vinicola pugliese, dove i sommelier dell'Ais hanno stappato circa 1.000 bottiglie per un totale di 10.000 calici. Molte le degustazioni organizzate dall'ONAV, con un totale di 3.000 assaggi dei tre vitini autoctoni più conosciuti e apprezzati, Nero di Troia, Primitivo e Negro Amaro. La presenza degli operatori di settore nel padiglione Puglia ha registrato una media di 150 unità per singola azienda, un risultato di tutto rispetto per le nostre realtà produttive. La Puglia Grande anche l'affluenza ai laboratori e ai workshop tematici, che hanno visto la presenza di oltre 350 partecipanti, molti stranieri. Tra i dati più incoraggianti, certamente è la nutrita partecipazione degli enoturisti, che hanno affollato il desk informativo curato dall'assessorato regionale al Mediterraneo, cultura e turismo e dall'agenzia Puglia Promozione.